Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Sarascino da Benessere Ippnosi Soluzione Ippnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola Oggi rispondo ad un signore che mi chiede perché, perché lo fa dottore, perché lo fa Ho visto tanti video che ho visto qua là Bene, io rispondo pubblicamente, lo faccio perché voglio, finché sono su questa terra Aiutare la gente di buona volontà, facendogli capire che esiste l'ipnosi DCS vera e professionale Senza se e senza ma, a prescindere dal sottoscritto, ok? Anche perché ho sospeso le sessioni online di ipnosi DCS in tutto il mondo Per problemi di tempo e di impegni E quindi anche se vai presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale Che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura L'ipnosi conformista e commerciale della tua zona Sappi che adesso esiste questo grande, grande, grande strumento E che si chiama ipnosi riconosciuta L'ipnosi vera e professionale dell'Associazione Medica Mondiale Come medicina alternativa nel 1958 E dal Papa, anche dalla Chiesa è stata riconosciuta Nel 1847 con Papa Pio IX E lo stesso Papa Giovanni, Paolo II, Papa Voitile, il Papa Polacco Se è la mia stessa età te lo ricordi, se non vai su internet lo trovi Si auto-ipnosizzava, come ha scritto nella sua biografia Per imparare le lingue straniere Ne conosceva più di 12 Poi vai anche su riviste specializzate, accreditate come Lancet, Life Considera che esiste anche l'ipnosi medica Se ti trovi in ospedale e lei provate tutte Che viene utilizzata soprattutto Ma non solo per anestetizzare pazienti Che non sopportano i farmaci per l'anestesia Non credere al sottoscritto Vai su Youtube, digita ipnosi medica E trovi tutto quello che vuoi Però a parte questo L'ipnosi vera e professionale in ogni parte del mondo Ripeto, mondiale È utilizzata anche nella psicoterapia Nella psicologia Ma anche dai consulers Dai mental coach Dai life coach In base alla tipologia E alla legge che esiste nel loro paese Quindi bisogna guardare, osservare e parlare A Los Angeles faccio un esempio Nella nostra associazione di ipnolegi associati Anche se ci sono medici, psicoterapeuti Gente comuni, mortali L'ipnosi è consentita A patto che si rispettino le altre professioni Naturalmente Perché bisogna sempre chiedere La diagnosi la deve fare il tuo medico La cura è il tuo medico La terapia è il tuo medico Lo specialista della salute Ma se vuoi utilizzare qualcosa di alternativo Insieme a magari le medicine eccetera C'è anche l'ipnosi vera e professionale Infatti negli ospedali americani Ma anche in altre parti del mondo Anche chi non è medico Viene invitato negli ospedali Se è bravo e dotato Una vocazione ipnotica Ad utilizzare strumenti ipnotici Detto ciò Io lo faccio perché la mia mission Finché sono su questa terra È quella di sdoganare Questo metodo di CS Che è un metodo unico al mondo Veramente unico al mondo Perché è unico al mondo Perché non ti ruba tempo Lo puoi utilizzare anche per un tuo caro Che non vuole essere aiutato O che non può essere aiutato Come è successo a me nel 2008 Con mio padre E come ho aiutato Centinaia e centinaia di bambini Adulti e anziani Che non volevano Non potevano Con l'aiuto dei loro genitori E dei loro cari Non si mettono gli auricolari Non ti stressa È facilissimo nell'uso E ha delle suggestioni uniche Nel mondo Veramente originali Che derivano Provengono direttamente A due grandi Dell'ipnosi vera e professionale La dottoressa Lina Prunini Il professore dottor Miguel Angel Garai Di Los Angeles Beverly Hills Conosciuti a Hollywood In America Latina Nella stessa Beverly Hills Di Los Angeles Eccetera 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 Io ho studiato con loro Sono diventato un associato Un amico Eccetera 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 Per cui Fammi tutte le domande Il caso La mia mission è quella Di sdoganare l'ipnosi In generale Ma soprattutto il mio metodo Metodo di CS Di ipnosi di CS Verra e professionale E finché respiro E finché tu magari Continui a scrivermi A mettermi commenti A darmi energia Benzina Per continuare Perché no? Dedicare un po' di tempo mio Per diffondere Ciò che Le mie esperienze personali Perché io dal 2008 Ad oggi mi ipnotizzo Non mi costa nulla Poi per la vendita Degli audio MP3 di CS Che ti puoi scaricare Comodamente Liberamente Da qualsiasi parte del mondo In cui tu risiedi Facilmente E seguire l'istruzione Molto facile A prova di nonno In base al caso Tu o del tuo caro Magari diagnosticato Da un professionista Della salute Della tua zona Del paese In cui vivi E gestito Dall'associazione Ipronici Associati Los Angeles Anche se le parole Sono mie Le opere d'arti Sono mie Ma sono soprattutto Anche del professore Garai E della dottoressa Io ho messo soltanto Un 30% E 12 anni di esperienza In quelle parole Perché Testo H24 Ogni opera D'arte Di ipnosi Di CS Vera Professionale A me Di CS Dottor Claudio Saracino Iscriviti a questo Canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione Di CS Dottore Claudio Saracino E facer condividi Con amici E parenti Perché può essere Quel quid Quella molla Che gli cambia La vita Soprattutto A quei problemi Esistenziali Di salute Di benessere Che più ne metta Che non hanno Una soluzione Ecco dove devi Cercare Di informarti Cosa può fare L'ipnosi Con te E non fermarti Neanche All'esperto Di ipnosi Il professionista Di ipnosi Che dice Non c'è nulla Da fare E te lo dice Un mentore C'è il sottoscritto E che nel 2008 Anche con suo padre Molti Guru Blasonati L'ipnosi A cui rispondevano Da tutte le parti Del mondo Non si può fare nulla Io non mi sono arreso E ho trovato La dottoressa Lina Brunetti Che trattava Con l'ipnosi Casi come Ictus Paradesi Epilessia Autismo Chi più ne ha Più ne mette Che poi sono diventate Mio sapere Mio Bagaglio Culturale E professionale Ok Per cui Seguimi Anche su Instagram E Twitter Benessereipnosi Soluzione Dice